Cominceremo con l'ascolto di uno strumento che non abbiamo al momento ancora visto, è della chitarra classica e del cui corso è tenuto dal maestro Maurizio Neso. Il pezzo in programma è Jingle Ballon Rock, una versione un po' movimentata di Klingkart. Signore e signori lo esegue per noi Anna Mestrinelli. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.